Ciao, Asso. Ciao. Non dovevi essere qui. Dovevo essere lì, ma eccomi qui. Sono lì? No, sei qui. Sì, lo so che sono qui, ma loro sono lì. Sì, sono lì. Vado lì, stai qui. E la partita come va? Chi vince? Il Marsigliese. Vinceva. Allora, Asso, scommettiamo su di te. Bravi, avete già vinto.